E in una fase di monitoraggio e di studio il parcheggio a pagamento sito presso l'ex campo Landolfi ad Agropoli, precisano da Palazzo di Città, la sosta a pagamento durerà fino al 30 settembre e poi il parcheggio ritornerà libero. In tanti però, a distanza di una settimana, hanno manifestato la propria contrarietà alla realizzazione delle strisce blu sull'intera area dell'ex Landolfi. Innanzitutto chiariamo che è solo un periodo temporaneo dell'anno, ma stiamo parlando soltanto del periodo estivo. Poi tornerà naturalmente come era precedentemente il parcheggio libero. Certamente questa fase iniziale ha necessità di un monitoraggio e di uno studio che poi porterà certamente a delle decisioni che cercano di ottimizzare il servizio e di regare meno danno possibile ai cittadini. Detto questo, i cittadini sanno che possono fare chi vuole l'abbonamento, c'è un abbonamento di 120 euro all'anno che vale per tutti i posti a pagamento di Agropoli, diciamo 10 euro al mese, quindi tu con 10 euro al mese puoi sostare dappertutto, da Trentova, a lungomare, in qualunque posto e per le persone che hanno al di sopra dei 65 anni l'abbonamento costa 5 euro al mese, quindi 60 euro all'anno e allo stesso modo può parcheggiare dovunque. Quindi sono due facilitazioni. Poi abbiamo creato tutta una serie di scontistica per le attività turistico-ricettive con il parcheggio di prossimità che costa anche pochissimo, abbiamo dato altre agevolazioni anche ai non residenti, possono fare l'abbonamento anche coloro che non abitano ad Agropoli ma hanno un'attività ad Agropoli e anche uno totalmente non residente può tranquillamente farlo ed è possibile anche fare degli abbonamenti mensili. Tendremo in considerazione certamente tutte le richieste che verranno dai cittadini per cercare di migliorare il tutto e rendere quindi sempre più fruibile il parcheggio stesso. Quindi siamo aperti anche a eventuali richieste di modifica, considerate che dobbiamo comunque valutare e monitorare come ho detto all'inizio l'andamento e i movimenti delle automobili che stiamo monitorando in questi giorni. Presto oltre al blu il campo Landolfi e altre zone della città si coloreranno anche di rosa per favorire la sosta a neomamme o a donne in stato di gravidanza. Questa iniziativa, sottolinea Coppola, era stata già realizzata in passato dall'amministrazione Alfieri e verrà sicuramente riproposta per venire incontro alle esigenze delle donne in stato interessante o con bambini fino ad un anno di età. Ma è un'iniziativa non nuova, già è stata qualche anno fa realizzata dall'amministrazione Alfieri questo di lasciare alle mamme in stato di gravidanza la possibilità di parcheggiare rapidamente quindi non è un'iniziativa, una cosa che già è nei nostri programmi, una cosa che già abbiamo ottenuto in considerazione e valutato. Quindi ci sarà la possibilità, farete queste strisce rosa per la città? Certo.